Buongiorno, siamo con Carlo Alberto De Casa, capo analista ActiveTrade, che sarà uno degli espositori al prossimo appuntamento di Investing il 23 marzo a Napoli. Carlo Alberto, riesci a anticiparci qualcosa in merito a quello che i partecipanti di Investing scopriranno partecipando poi all'evento del 23 marzo su ActiveTrade? Con ActiveTrade le novità non finiscono mai, quest'anno a Napoli porteremo diverse curiosità, diversi nuovi punti di forza per gli investitori italiani. Da tempo abbiamo lanciato, da prima di Natale abbiamo lanciato le criptovalute, si parla di Bitcoin e Litecoin, ma ora a Ethereum, ma ora anche del Ripple, quindi migliorie per quanto riguarda la serie di strumenti che vengono offerti, ma anche dei miglioramenti, ulteriori miglioramenti nella piattaforma, nelle strumentazioni tecnologiche per negoziare valuti, indici e commodities con ActiveTrade. Dopodiché saremo presenti a Napoli questa primavera e con Investing continueremo in autunno a Roma. Perfetto, allora siamo molto curiosi e ci vediamo con ActiveTrade il 23 marzo a Napoli. Grazie mille, buona giornata! Buon trading a tutti e non dimenticatevi di scoprire sul sito di ActiveTrade quelli che saranno gli incontri formativi con i seminari itineranti che gireranno tutta l'Italia da Torino a Napoli. Buon trading a tutti ancora! Grazie mille, ciao!